Il volo diretto Pescara-Milano costa troppo per la ITA Airways, ex compagnia di bandiera, e da oggi di fatto non c'è più. Resta confermato quello per Bergamo con 14 voli settimanali, ma a patirne le conseguenze non sono solo i passeggeri, pochi stando a quel 7% del traffico totale che rappresentava, ma anche il presidente della saga Vittorio Catone, che oggi ha voluto puntualizzare, potremmo dire, ruoli e meriti. Il collegamento Pescara-Linate con ITA è sospeso, lo abbiamo saputo a metà giugno, dal giorno stesso in cui l'abbiamo saputo ci siamo subito attivati assieme alla regione Abruzzo, in primis col presidente Marsiglio, il quale è quello più determinato a ripristinare questo collegamento. Noi dobbiamo dare priorità anche perché su Linate, ITA ha più slot di tutti quanti, sta ristrutturando anche il proprio piano operativo di voli, dovrà molto probabilmente incrementare i voli su Milano e Linate e quindi incrementando i voli su Milano e Linate probabilmente ci potrà essere spazio anche su Pescara. Soluzioni possibili da settembre per il ripristino della rotta ci sono, sia con Airways ma anche con altre compagnie. E sulla governance non pare sia mai mancata. A poco serve ribadire la mancata nomina del direttore generale il cui posto è vacante da circa un anno. Noi abbiamo dimostrato negli ultimi 12 mesi in assenza del direttore generale che questo aeroporto e questa società sono cresciute sotto tutti i parametri numerici aeroportuali. Abbiamo un accountable certificato ed accettato da ENAC che manda avanti l'infrastruttura dal punto di vista aeroportuale e abbiamo un amministratore delegato ad Interim che sono io dal momento in cui non c'è più il direttore che ha mandato avanti la società di gestione. E se l'ENAC ha acceso nei confronti dello scalo abruzzese un faro, è pur vero che sia la certificazione che la concessione di Saga non sembrano messe in discussione. Intanto la Saga annuncia numeri record per questa Summer 2023 che guadagna un bel più 17% rispetto allo scorso anno. Nel solo mese di luglio sono stati 102.000 i passeggeri.